Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tablet PC Tablet Danistar TABR908DC. Caratteristiche del Tablet TABR908DC Danistar. Processore Rockip 3168 ARM Cortex 19A1, 2GHZ GPU Mali 603D Accelerator Schermo Capacitivo 9800x480TFT Multitock Memoria RAM 512. Megabyte DDR3 Memoria di massa 12GB Flash Videocamera Frontale Integrata 0, 3 Megapixel Sistema Operativo Android 4.2 Connettività Wi-Fi 802, 11BGN Formati audio supportati, MP3, WMA, OGG, AC, FLAC, APE, WAV Formati video supportati fino a 1080p Full HD. AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, MOV, FLV, MKV uscita mini HDMI per connessioni al TV porta micro USB 2.0 Per connessioni al PC supporta schede micro SD, microfono integrato uscita cuffia, sensore di gravità, batteria a litio integrata, ricarica batteria mediante alimentatore 5V. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.